Musica Ad Arquata scrive nell'Alessandrino continuano i blocchi contro gli espropri dei terreni per la linea del terzo valico nessun incidente fermato il lavoro dei funzionari Buongiorno dal telegiornale del Piemonte Anche stamane i tecnici del consorzio per la costruzione del terzo valico non sono riusciti ad espropriare le aree utili ai cantieri della zona di Arquata scrivia mobilitati per impedire l'operazione un centinaio di oppositori all'opera ma sì c'è la presenza di agenti Ma sentiamo Beppero Vera Ci hanno riprovato stamane intorno alle 9.30 In tre l'esecutore e due testimoni come prescrive la procedura non sono neppure scesi dall'auto Circondati dei dimostranti i buri in presenza di un massiccio reparto di agenti ben equipaggiati hanno preferito desistere Dopo due anni sono tornati a mandare le letterine verdi del Kociv Siamo qua da stamattina alle 8 per impedire che Kociv riesca a espropriare dei terreni qua dietro L'esproprio dei terreni indispensabili per allargare le strade di servizio ai cantieri del terzo valico ad Arquata scrivia finora non è riuscito E non riuscirà, giurano i manifestanti che dal sito internet chiamano raccolta gli oppositori ad un'opera che considerano inutilmente costosa 6 miliardi e 200 milioni dicono per una galleria che bucando l'appennino tra la Val Polcevera e la Valle Scrivia accorcerà le distanze fra Piemonte e Liguria Siamo sicuramente ancora più convinti delle volte scorse l'abbiamo già fatto, abbiamo già vinto delle battaglie pensiamo che adesso ci stiamo avviando verso la vittoria finale I tecnici del Kociv, il consorzio costruttore a maggioranza in pregilo avevano già tentato ieri pomeriggio di assolvere al loro compito una catena umana li ha bloccati all'incrocio tra la provinciale per Serravalle e località Picaretto di sopra oltre un centinaio, i no terzo valico mobilitati su tre presidi fra il cantiere Radimero, quello di Moriassi e il deposito di smarino di Libarna Sta arrivando il Kocivite qua Sono arrivati di là, li abbiamo mandati via, che non passino di qua adesso Stiamo qua, lo portiamo qua Sinora il consorzio si è assicurato poco più della metà delle aree interessate dai lavori e entro il luglio del prossimo anno dovrà aver completato tutte le acquisizioni quando scadrà la proroga di pubblica utilità Un'opera travagliata, quella del terzo valico macchiata recentemente anche dalla chiusura per infiltrazioni mafiose del cantiere di voltaggio Grazie 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 Grazie